Grazie Presidente, onorevoli colleghi. È delle ultime ore la notizia che il rettore del prestigioso convitto nazionale Giordano Bruno di Maddaloni, la professoressa Maria Pirozzi, è stata trasferita a Capodrise. La notizia ha letteralmente sconvolto e lasciato in credo i genitori, i alunni, i docenti ed il personale adulto del convitto. Chi ha lavorato nel suo timo ha avuto modo di vedere quanto il suo impegno sia stato negli ultimi tre anni fortemente orientato anche verso il risanamento finanziario in cui vertevi il convitto. Ed devertà le motive che da più fronti questo trasferimento sembra essere stato di fatto motivato alla scomodità delle sue azioni. Ebbene, se il trasferimento è stato determinato da una simile motivazione reale, allora il territorio è diventato il nuovo scenario di uno spettacolo di illegalità e disonestà. Tanti stanno dimostrando contrarietà al provvedimento, solidarietà e vicinanza alla professoressa Pirozzi. Ma al di là delle persone coinvolte il problema è la consegna ai nostri figli di una società che decide di imbavagliare chi vuole portare alla luce danni contro lo Stato perché anche le economie del convitto e le condizioni finanziarie dell'Istituto sono e devono essere salvaguardate in interesse della società civile tutta. Non si può rimanere in silenzio di fronte a questo provvedimento, significherebbe assumere un comportamento omertoso. Come portavoce del territorio mi sono interessata subito alla questione nell'offrire la mia solidarietà alla dirigente e alla comunità coinvolta, fino a prova contraria il Rettore del presigioso convitto e persone stimate ed apprezzate. Sono certo che il Ministro della pubblica istruzione saprà fare subito chiarezza sul trasferimento in questione prendendo provvedimenti che allontanano il territorio dal balito dell'illegalità. Grazie. La ringrazio. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 19 luglio 2019, ore 9.30, svolgimento di interpellanze urgenti.